Noi siamo un po' degli infiltrati in questo campeggio perché noi due siamo due giornalisti e non ne capiamo niente di tecnologia e di cose di questo tipo. Però da qualche anno a questa parte voi hacker, voi activist avete dato un impulso, una vera e propria rivoluzione nel mondo del giornalismo perché con i primi leaks che hanno messo a disposizione milioni di informazioni per i giornalisti investigativi e di inchiesta e avete costretto i giornalisti a collaborare tra di loro, che era una cosa che non era mai successa perché per i giornalisti vale il detto che vale per gli scrittori e cioè che ai giornalisti piace solo l'odore della propria cacca quindi è difficile che si mettano insieme tra di loro. Quindi io sono qui per ringraziarvi a nome del giornalismo e per ricambiare il favore dandovi un consiglio e cioè quello di iscrivervi all'ordine dei giornalisti perché in realtà i giornalisti investigativi in alcuni casi fanno un lavoro molto simile a quello che fanno alcuni hacker e con la differenza che i giornalisti hanno una scriminante che gli permette di non andare in galera. Beh, agli hacker questa cosa non è prevista dalla Costituzione mentre noi abbiamo un diritto che è il diritto di cronaca che è un superpotere che ti dà un'immunità pazzesca su tutta una serie di cose e siccome per la giurisprudenza italiana vale ancora il fatto di avere un tesserino il mio consiglio è quello di prendervi il tesserino da giornalista, è molto semplice poi magari vi spiego come si fa ma perché vi dico questa cosa, questa similitudine tra giornalisti e ingegneri sociali perché c'è una tradizione nel giornalismo che è il giornalismo sotto copertura che utilizza alcune cose che sono presenti nell'ingegneria sociale qualche anno fa ho letto un libro di Kevin Mitnick che spiegava alcune sue azioni di come riusciva a carpire informazioni semplicemente l'utilizzo di tecnologia cioè semplicemente parlando al telefono con i centralini delle aziende e fingendo, mettendo su, accampando delle storie riusciva a avere quelle informazioni che gli permettevano di intrufolarsi in un sistema il giornalismo sotto copertura fa quasi la stessa cosa è una forma di giornalismo che è nata in America alla fine dell'Ottocento quando una donna, una giovane ragazza per documentare quello che succedeva nell'ospedale psichiatrico di New York ci provò prima normalmente da giornalista ma nessuno la faceva entrare gli dava accesso alle informazioni, ai dati e allora lei si è finta pazza si è fatta ricoverare è stata due settimane lì dentro ha documentato tutto e poi si è accorta che non riusciva più a uscirne perché tutti le davano della... cioè oramai per tutti era pazza nonostante lei comunque avesse un mandato del suo direttore di giornale poi alla fine, siccome i giornalisti hanno qualche superpotere alla fine lei ne è uscita non avesse avuto il tesserino forse non ne sarebbe uscita comunque, insomma, io mi sono ispirato a questa tradizione qui ho fatto una serie di cose di questo tipo qualche anno fa a Milano c'era l'Expo e c'era una grande propaganda su quanto fosse bellissimo l'Expo però era molto difficile poter andare lì con una telecamera e documentare quello che stava succedendo se lo volevi fare dovevi passare attraverso un ufficio stampa che ti portava in un luogo preciso potevi parlare con una persona precisa ma non potevi farti un giro in quello che era il cantiere stato il cantiere più grande l'opera pubblica più grande d'Italia allora, mi sono finto operaio molto semplicemente mi sono messo un caschetto e la pettorina catrifrangente quella delle macchine e nessuno mi ha fermato all'ingresso e questo la dice lunga perché in realtà ci doveva essere un apparato militare che doveva proteggere tutto il perimetro del cantiere perché di lì a poco ci sarebbero arrivate milioni di persone quindi non ci doveva entrare chiunque infatti quel servizio si chiama Bomba all'Expo io porto una finta bomba e la metto sotto l'albero della vita però la cosa interessante era che loro avevano fatto un protocollo firmato dal ministero degli interni dove dicevano che questo poi era uscito cantone perché quello doveva essere il cantiere della legge dove era impossibile che un subappalto tramite un subappalto entrasero ditte in onda di mafia e insomma poi in questo mio giro io documentavo che c'erano dei passaggi dei buchi nella rete dove entravano e uscivano centinaia di operai che nessuno controllava e nessuno registrava quindi praticamente in quel cantiere ci hanno lavorato tutti poi però Renzi e tutti si domandavano ma com'è possibile che sta succedendo tutto questo sotto i nostri occhi un giorno Renzi a Tokyo ha detto grazie alla procura di Milano per la moratoria che ci sta da su Expo e l'unico povero magistrato che stava indagando su queste cose Robledo è stato mandato a fare le fotocopie a Torino ma questa è un'altra storia il giornalismo sotto copertura poi ho fatto tante altre cose tipo ho fatto il fattorino di Foodora di Deliveroo un servizio dell'anno scorso dove mi sono finto un ex allievo di un prete pedofilo cioè un prete che era accusato di pedofilia e che un'inchiesta del Vaticano aveva appurato che era un pedofilo anche se i documenti erano segreti e ovviamente c'erano 60 alunni che sostenevano questa cosa ma nessuno li ha mai voluto chiedere neanche la magistratura ha mai voluto aprire un'indagine per tutta una serie di motivi non era finita la prescrizione però per tutta una serie di motivi non l'hanno fatto nel caso di qui vicino del provolo di Verona sono andato da questo prete fingendomi un ex allievo e alla fine lui non solo ha confessato quello che lui aveva fatto a dei bambini ma anche quello che avevano creato come sistema per pretare erano una decina di prete che facevano questa cosa dei bambini sordomuti che venivano da situazioni familiari difficili e ogni volta che succedeva qualcuno non alzava la voce perché erano sordomuti ma arrivava una segnalazione di qualche tipo avevano creato un ponte con i Sud America e gli inviavano questi preti in odore di abuso e infatti questa storia nasce perché in Sud America hanno arrestato uno di questi preti mentre da noi sono tutti abbastanza liberi fin quando questo è come nasce perché perché se tu vai da un prete e gli dici salve sono un giornalista mi dica per favore gli abusi che lei ha commesso sui bambini è difficile che ti risponde con sincerità e quindi devi utilizzare l'ingegneria sociale sostanzialmente cioè l'arte di fingere ma anche questa ha dei limiti perché cioè io non posso fingermi un imprenditore cioè anche se mi metto la giacca e la gravatta nessuno mi scambia per un imprenditore e quindi alcune cose non le puoi fare tu ma puoi utilizzare quello che si chiama insider cioè un'altra persona che ha delle skills per fare questo tipo di lavoro e infiltrare lui sotto copertura e così un bel giorno in questa regione a pochi chilometri da qui io e il mio collega Gian Paolo Mannu che per la prima volta per puro caso riusciamo a presentare questo lavoro insieme e abbiamo conosciuto un ex boss della Camorra che si chiama Nunzio Perrella e gli abbiamo chiesto una cosa molto semplice noi volevamo raccontare il nostro giornale che è fanpage si occupa da tanto tempo di ambiente però non riusciva mai perché è nato a Napoli e è affrontato il problema della terra di fuoco è difficile smuovere qualcosa in questi in questi ambiti e allora volevamo provare a avere informazioni da dentro il sistema del traffico illecito di rifiuti che ovviamente è in mano alla Camorra all'imprenditoria corrotta criminale e a politici corrotti e quindi abbiamo chiesto un ex boss che negli anni 80 era il re dei rifiuti tant'è che aveva scritto un libro su questo tema gli abbiamo chiesto di rinfilarsi in questo mondo cioè di dire che lui era di nuovo il re dei rifiuti e benché sembri una cosa impossibile li hanno creduto tutti e quindi noi poi questa è una cosa che mi spiegava uno specialista di ingegneria sociale poi devi sempre alzare l'asticella per essere credibile no? perché cioè devi sostenere la tua tesi fino alla fine e la cosa assurda che noi siamo partiti dall'ultimo della filiera cioè l'ultimo trafficante di rifiuti che sversa la cosa e passo dopo passo siamo arrivati a parlare prima con un dirigente pubblico poi con un politico poi col figlio del governatore della Campania e alla fine ci siamo ritrovati col ministero dell'ambiente Nunz Berrella l'ex boss della Corra che parla col ministro dell'ambiente è l'escalation totale infatti questa investigazione sotto copertura che si chiama Vladimir poi è stata diluita come una serie in sette puntate e adesso vi facciamo vedere la prima puntata perché è quella in cui si capisce di più la metodologia diciamo che abbiamo utilizzato siccome è diciamo un lavoro che ha suscitato parecchie perplessità negli ambienti giudiziali diciamo così e anche negli ambienti del giornalismo noi crediamo che invece negli ambienti hacker susciti più favore mi chiamo Nunzio Perrilla e sono un ex boss della Capurra ho gestito per anni il traffico dei rifiuti in tutta Italia dopo 21 anni passati gli arresti sono tornato un libero cittadino e ho proposto allo Stato di infiltrarmi di nuovo nell'ambiente nessuno mi ha mai voluto aiutare oggi ho deciso di provarci con fanpage mettendo a rischio la mia vita è quello dei miei familiari l'ho fatto perché tutti sanno e nessuno fa niente per 5 mesi siamo andati in Cile per l'Italia abbiamo incontrato centinaia di trafficanti di rifiuti spedati camorristi imprenditori spregiudicati e politici corrotti prima di iniziare le riprese abbiamo messo in giro la voce di un mio ritorno nei rifiuti ti faccio sapere che sono tornato dopo tanti anni un'altra volta nel giro se tu hai affari per le mani sono disponibile 100-100 questa è quella che abbiamo scoperto dopo aver messo in giro la voce che Nunzio Perrella era interessato a fare affari nel campo dei rifiuti riceviamo una telefonata a contattarci è un imprenditore napolitano ben inserito negli ambienti politici della regione campagna non ciò ciao la Giovanna ha dato un messaggio che c'è una cosa che si può fare si si può fare sui fanghi di laboratori a bambino non lo trova chi smaltisce sti rifiuti bravo con chi abbiamo a che fare la Smaio non si tratta dovrei contrattare direttamente con l'amministratore della Smaio ok dai ok è meglio il telefono non parlare puoi riferire che hai trovato la persona giusto per smaltire i fanghi ok ok ciao dopo circa un mese incontriamo l'imprenditore a Roma davanti al Parlamento per sapere altre informazioni hanno proposto una situazione con il gruppo di Luciano Passariello Luciano Passariello è un consigliere regionale membro della commissione trasparenza che vigili proprio sulle società partecipate dalla regione e candidato alla Camera con il centro-destra Luciano Passariello è una situazione da Smaio perché è il stesso che sta gestendo la situazione Smaio Campania è una società collegata con la regione Campania la Smaio è un'azienda di proprietà della regione Campania che si occupa di rifiuti incendi e demonitoraggio dell'area della terra dei fuochi la Smaio Campania è un'azienda che venga questa cosa è che giustamente fa le risorse giuste a loro perché si è avvicinato alla campagna elettorale è tutto un burtello politico ma se hanno piaciuto la presenza politica che ci fa niente se la Smaio con chi potremmo contrattare per le certezze l'incontro avviene all'interno dell'ufficio di Lorenzo Di Domenico amministratore della Sma Campania alla nostra sinistra c'è il segretario Luciano Passarello e di fronte Lorenzo Di Domenico amministratore della Sma allora voi avete avete letto le analisi si si tutti i tipi di quei di più non li possiamo prendere a me dove li portate sostanzialmente a me che in Matera sulle zone nostre le camminate sono 10 al giorno la legge ci ha già detto che ci autorizza a qualsiasi tipo di prezzo purché non fermiamo gli impianti il prezzo a base d'asta era 125 euro a pannellate abbiamo fatto una gara e una manifestazione di interesse entrambe le sette adesso abbiamo dato l'autorizzazione a fare una nuova gara capitolato chi lo fa? capitolato lo facciamo noi in condivisione con la regione Pana queste sono procedure che ci portiamo da decenni cioè 145 euro rappresenta l'importo massimo che potremmo spendere a tonnellate io a 145 posso chiudere la mani ma anche il lunedì faccio un provvedimento tu già hai iniziato e faccio la vita prima di 145 quanto mi costo risporre? che significa? quando resta? sui 145 normalmente ci resta 5 euro a tonnellate per voi? per quello che è mio non so cosa resta cosa resta calca più piante e cose sui 145 tutto resta tra i 12 e i 13 in questa posizione per restare 5 euro qua vuol dire che voglio dire ci stanno a meno e ci stai comprando se non qualcosa è il mio se non qualcosa è il mio perché non pare da qui stiamo a salzare tu non dobbiamo stare bene non compri il vino di acqua e tonza sostanzialmente chi deve pagare sono io quindi ci muro ah stiamo a posto stiamo proprio a posto a lungi ci sono i problemi i giorni dopo il segretario di Luciano Passariello ci ricontatta ha delle cose importanti da dirci ma non parlarne al telefono il segretario scrive su un foglietto le percentuali dei tangenti da pagare per i politici e i dirigenti della SMA 170 noi vediamo che c'è un po' di storno che ti trebbe proprio io ho un piccolo problema un po' di ricerca invece di 170 di 170 poi c'è da maiz è un po' di niente di organizzazione a chi è che c'è? di 100 ha aiutato il compito la velocità di sciurio la cucina possono essere una domanda proprio di Luciano il giocattolo di cui si sta parlando è una macchina da soldi incredibile si tratta di smaltire circa 6.000 tonnellate al mese che il prezzo di 175 euro a tonnellata sono un milione di euro di cui la percentuale che spetta alla politica è di 170.000 euro io ho oltre tutto un'angelo di segretario mi sta divanato di partito ah ah di organizzazione si si per parire e ah sicurezza mia è superfegua che cosa mi no lui no ma Luciano si sta chiusando a posto e voi venite superfeggi a compagno e facciare l'ufficio di chi è io sono il capo se lo togliamo alla prossima volta non possiamo entrare dentro l'ufficio di Luciano Passariello perché Metal Detector rileverebbero la telecamera nascosta Lorenzo pure fa altra famiglia sempre è poco professionale lo fa all'azienda non ha capito noi siamo due, tre, quattro poi ce ne andiamo io ma non è niente non è niente non è niente lui va tanzia che tu lo so vai vai avete capito Luciano ora si fanno le quattro si fanno pochi soldi una spinta per dargli una mano sono a disposizione l'unica cosa che non lo dobbiamo mai coinvolgere è l'intesa un centro d'intesa ma più di tanto le mani fuori perché ora il politico deve stare fuori da tutto ora si manda a campo quindi va a Roma ma è una forta mano e poi facciamo un incontro e ci mangiamo bucconetti ci siamo capiti ciao a tutti ciao a tutti voi vi chiederete che fine hanno fatto tutte queste persone perché questi sono diciamo due dirigenti pubblici poi in tutte le sette puntate ce ne staranno un'altra ventina di personaggi diciamo che è molto prevedibile tutta la fascia intermedia si è tutta dimessa cioè sono tutte queste figure non amministrano più soldi pubblici però la parte sopra quindi i candidati quelli che non non ti fanno vedere che mandano diciamo i loro segretari a contrattare eccetera quella parte non è stata toccata molti sono stati eletti quindi adesso sono diciamo in Parlamento e la la metodologia che abbiamo usato prima parlavo un po' di ingegneria sociale e io ritrovavo questa cosa perché noi sostanzialmente questo personaggio questo insider giocava diversi ruoli con alcuni era il vecchio camorrista di una volta con altri era un imprenditore dei rifiuti con un altro ancora era un broker di rifiuti e con le stesse persone cioè ci siamo ritrovati in molti tavoli di trattative in cui una persona credeva che era un camorrista un'altra che era un imprenditore e quindi è stato un gioco molto proprio sulla piccolezza perché tutte queste storie che come avete visto iniziano a ottobre 2017 e finiscono a febbraio 2018 noi tutti questa indagine è nata che siamo andati a vivere insieme con questo ex boss della camorra e ci siamo rimasti per sei mesi e tutte queste storie avevano una conclusione che queste persone dovevano avere dei soldi e quindi rimanevano attaccate fin quando non avrebbero avuto la loro tangente la loro percentuale eccetera ed erano tutte contemporanee quindi tra l'altro si conoscevano tutti tra di loro cioè i politici del Veneto conoscevano questi dirigenti della campagna e quindi se ne saltava uno cioè se ne saltava tutta l'ipalcatura e quindi abbiamo dovuto tenere questo gioco per mesi per cinque mesi finché non abbiamo dato la prima mazzetta falsa che nella terza puntata in cui consegniamo questa mazzetta che loro dovrebbero avere però al posto dei soldi dentro ci sta spazzatura e quindi ovviamente lì iniziano a scoppiare tutte le storie una dopo l'altra perché noi praticamente consegniamo la mazzetta a Napoli dopodichè partiamo consegniamo la seconda mazzetta a Venezia a quella che per chi è di qui forse avrà letta la notizia sui giornali questa dama di mezzo e lì invece dei soldi consegniamo dei paccheri napoletani che sono una pasta e e quindi poi l'ultima cosa che avremmo dovuto fare era rincontrare diciamo la percentuale chiudere l'accordo col figlio del governatore della Campania e il giorno che dobbiamo chiudere quest'accordo succede diciamo un imprevisto cioè arriva la polizia sostanzialmente e ci sequestra il girato e tutta una serie di cose però comunque insomma poi il lavoro cioè poteva continuare poteva cioè continuando veramente forse Nuzio Perrella adesso poteva sedersi non lo so al Senato cioè per come è stato facile permeare questo sistema no? e ma credo che abbiate qualche curiosità quindi vi scatenate appunto la mia domanda è come siete stati sicuri che che questo annunzio Perrella non facesse il doppio gioco o comunque fosse credibile come persona nei vostri confronti perché voglio dire per un ex boss della Camorra che è stato anche in carcere tanti anni provo 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 ovviamente diciamo noi abbiamo iniziato a girare a ottobre nel 2017 l'annunzio Perrella l'abbiamo conosciuto nell'aprile del 2017 in tutti questi mesi abbiamo sostanzialmente indagato su di lui cioè l'inchiesta è nata prima su di lui ed è nata verificando noi partivamo da un forte sospetto molto forte perché l'ultima diciamo magistrato con cui aveva collaborato era uscito dicendo che non era credibile che sono i magistrati di Brescia quindi partivamo da una forte perplessità e abbiamo vuoi raccontarlo tu cioè prima di fidarci di lui abbiamo fatto una verifica a Ferrara sì diciamo che abbiamo fatto una serie di servizi quello principale quello di Ferrara in cui abbiamo riscontrato che quello che lui ci diceva era vero a tutti gli effetti perché poi questo servizio di Ferrara praticamente era ci ha proposto di andare in uno dei posti dove lui negli anni 80 90 aveva sversato aveva sotterrato i rifiuti dicendoci guardate io so dove stanno i rifiuti questa è la mia credibilità e in effetti siamo andati abbiamo scavato e abbiamo trovato l'amianto in dei capi coltivati e possiamo dire che tutto quello che lui ci ha detto l'abbiamo visto avverarsi sotto i nostri occhi quasi non credendoci perché comunque queste cose sono successe poi per rispondere alla perplessità noi abbiamo evitato che fosse lui a condurre il gioco il gioco comunque era condotto da noi e quindi le storie che poi abbiamo su cui ci siamo infiltrati sono storie che sono nate in contemporanea a noi quando abbiamo incontrato tutta una serie di personaggi molti dei quali lui già conosceva per il suo passato eccetera eccetera ma le storie su cui abbiamo la maggior parte delle persone che poi sono diventate i personaggi di questa storia sono persone che abbiamo conosciuto contemporaneamente e lui considera che cioè noi vivendo insieme lui aveva il telefono nostro che registrava tutto qualsiasi messaggio chiamata eccetera aveva addosso noi ci svegliavamo e accendavamo la telecamera nascosta la spegnevamo quando andavamo a dormire e quindi sostanzialmente non c'era una cosa che lui poteva fare senza che noi per dire abbiamo avuto accesso a tutte le sue mail a tutti i suoi rapporti anche perché sapevamo che comunque la magistratura poi avrebbe fatto una una verifica diciamo sulla buona fede perché infatti noi siamo stati cioè io e il direttore del giornale siamo stati indagati per induzione alla corruzione e quindi poi dovevi dimostrare che in realtà non volevi corrompere dovevi nel momento in cui ti prendi la responsabilità di portare in giro una persona che offre mazzette devi ovviamente avere tutto sotto controllo e il metodo per farlo è stato cioè quando siamo partiti eravamo sicuri 100% che non ci fossero secondi fini e poi diciamo una delle controprobe massime è il fatto che lui lo faceva gratuitamente allora lui è un personaggio molto particolare nel senso che lui è stato per anni il boss dei rifiuti cioè lui è stato quello che ha portato in giro per tutta l'Italia i rifiuti seppellendoli quando poi è stato arrestato per altre cose lui ai magistrati ha raccontato quello che lui sapeva ha indicato dei posti ha dato delle dritte alla magistratura però di queste sue rivelazioni praticamente non non è stato è stato ritenuto all'inizio persona non credibile comunque insomma sono state un po' sabbiate queste sue rivelazioni per cui lui ha sempre avuto e nonostante questo lui comunque ha scontato la sua pena per cui diciamo che lui ha sempre avuto una voglia di rivalza verso comunque il sistema della politica della magistratura perché dice insomma io vi ho mostrato quanto esporra l'Italia le schifezze che ci sono sotto i nostri terreni che stiamo avvelenando le nostre famiglie i nostri cari e tutto quanto e nessuno fa niente questa era la sua no? poi c'è anche una cosa meno nobile che comunque lui e i suoi fratelli perché è una famiglia è un clan comunque diciamo sono stati condannati lui si è fatto vent'anni di carcere e comunque diciamo quel mondo lì il mondo che a metà tra criminalità e imprenditoria criminale eccetera hanno pagato tutti mentre il mondo di sopra cioè il mondo della politica non ha mai pagato e quindi io credo che nelle sue lunghe notti in carcere lui abbia covato un sentimento di vendetta che ovviamente noi abbiamo canalizzato per quello che serviva a noi cioè svellare i traffici di rifiuti dall'interno noi abbiamo indagato tutto cioè c'è una puntata anche su la camorra cioè l'ultima quelli che poi attaccano il tubo e lo sversano nella cosa che è molto più filmica è molto più però poi cioè è questo che crea perché nel momento in cui c'è corruzione no? cioè perché fanno affari con la camorra perché la camorra offre dei prezzi molto più competitivi rispetto a un'impresa che fa smaltimento di rifiuti e come fa ad offrirli perché in realtà non li smaltisce i rifiuti e quindi poi però diciamo senza questa cupola poi non ci sarebbe neanche la rigatura ambientale e però è molto difficile fare questo lavoro cioè è molto difficile cioè questo ufficio diceva la magistratura cioè è difficile poter infiltrare un sistema lui ci è riuscito e non ci saremmo mai potuti riuscire noi perché ha una credibilità lui come per il suo passato per cui quelle persone si gli intermediari che l'hanno portato da quelle persone si fidavano ciecamente di lui e sono tutte riunioni fatte in dei posti in cui un magistrato dal nulla non avrebbe messo una microspia non sono uffici gli uffici dove andrebbero prese queste decisioni nella seconda puntata che si sente a Salerno lì si discuterà degli appalti delle coballe il più grande problema della campagna e non si discuterà nella regione campagna ma nello studio commercialista del figlio di De Luca Sì invece lui ha sempre tenuto anche molto sottolineare il fatto che ok il traffico dei rifiuti è fatto dalla camara però il camorista è diciamo la manovalanza bassa no? Sopra ci sta tutta una serie di livelli che vanno dagli imprenditori ai politici addirittura forse pezzi deviati dello Stato no? che coprono questo traffico che avete visto le cifre sono cifre spaventose si parla di milioni di euro e tonnellate di schifo che finisce sotto i campi dove cresce la roba che noi mangiamo e quindi diciamo voleva anche un po' sfatare questo mito per cui ha i rifiuti la camorra no sotto i rifiuti ci sta un sistema un sistema bello grosso che coinvolge tanti livelli e tante realtà gli imprenditori che abbiamo conosciuto sono dei personaggi allucinanti cioè disposti a qualunque cosa per i soldi per i soldi perché tutto io alla fine qualcun altro? ma non lo volevano sapere adesso va vabbè c'è stato qualche momento in cui avete rischiato di essere scoperto comunque che tutto il sistema quello che avevate l'infiltraggio diciamo era scoperto allora c'è da dire che lui è un genio del male e ha fatto l'infiltrato anche quando è collaboratore di giustizia ha fatto l'infiltrato per i carabinieri per l'FBI in America è un professionista e quindi molte situazioni in cui una normale persona si sarebbe fatta sgamare facilmente lui riusciva con la sua abilità a riportarle nei giusti cardini però c'erano dei problemi tecnici cioè che la batteria dopo un po' la dovevi cambiare io diciamo ero il suo autista in alcune situazioni il suo segretario in altre in altri io non esistevo e quindi molto spesso dovevamo trovare dei metodi per incontrarci mentre lui stava con le altre persone e sostituire questa batteria e spesso era successo diverse volte che da un posto a un altro ci dovevamo incontrare in un autogrill lui aveva addosso un tracciatore gps quindi io lo chiamavo e gli dicevo alla prossima fatti dici che devi pisciare e vai nel terzo bagno a sinistra una volta io gli dico questa cosa lui poi lui era molto a suo agioco in tutta questa situazione non era molto preoccupata e praticamente lui era entrato nel bagno aveva fatto quello che doveva fare in bagno e io arrivo c'era una puzza veramente cioè incredibile era impossibile resistere poi cado stavo questa cosa gli devo cambiare la batteria non ce la facevo più esco e c'era diciamo il trafficante di rifiuti con cui lui era entrato nella cosa che aveva visto l'annunzio entrare nel bagno e poi ha visto uscire me dallo stesso bagno e è rimasto così io poi anch'io avevo una spike mattacata quindi ho rivisto il video e vedo lui che mi guarda sbigottito però poi non ha non ha mai fatto domande e diciamo per questa cosa di diciamo non aver comunque utilizzato della violenza contro di me questa persona è una delle poche che è avvolto coperto nel video ho ricambiato il favore di avermi lasciato in video no ma questo è uno scherzo c'è stato anche un personaggio coinvolto nell'inchiesta che ha capito chi era lui perché lui comunque va in giro promuovendo i suoi libri parla di queste cose molto spesso degli incontri pubblici ovviamente sempre col volto coperto questa persona ha capito chi era lui e gli ha chiesto ma scusa tu fai i rifiuti e poi dopo va in giro a parlare a svelare a dire che è e lui se l'è rigirata dicendo quella è la mia copertura cioè rendetevi conto del livello di sgamo che c'è questa persona e lui ci ha creduto oppure una volta diciamo l'incontro più piccoloso che abbiamo fatto era in un buco di un posto della campagna dove questi criminali sversavano rifiuti tossici liquidi e per tutta una serie di circostanze ci siamo dovuti tornare tre volte in questo boson e quindi ci siamo dovuti far accompagnare da questi criminali alcuni erano armati in questo posto e destando mega sospetti e l'ultima volta la scusa era che il mio direttore che fingeva di essere in quel caso un imprenditore del Veneto che doveva portare questi camion di liquidi in quel posto voleva vedere se riusciva a fare manovra con i suoi autisti cioè una scusa brutta 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 e sono andati il mio direttore è napoletano no? e doveva fare il Veneto e si è ritrovato di fronte a diciamo questi criminali là persone che fanno un po' paura soprattutto se conosci il loro passato no? e che all'ennesimo sono di Venezia detto più o meno così l'hanno preso in un angolo e gli hanno iniziato a fare il quarto grado no? cioè qua c'è qualcosa che non mi dora è arrivato Nunzo è nato tutto in vacca ma qua di Venezia che stai di Napoli questo cumbare e cioè ha fatto il suo show alla fine si sono messi tutti a ridere e si sono completamente dimenticati che c'era uno che sosteneva di essere di Venezia pur non essendo e sono usciti tutti vivi da quella situazione per cui cioè diciamo che è lui che ha salvato la vita a noi sicuramente non il contrario ma prima di organizzare prima di fare tutti i servizi avete avuto tempo per avere cioè per studiare delle strategie per cioè siete seduti a tavolino e avete detto facciamo questo così così facciamo questo possiamo fare in questa maniera se nel caso succede questo facciamo quest'altra cosa cioè la la parte organizzativa la parte organizzativa è stata un po' difficile perché la prima storia che abbiamo incontrato era di questo imprenditore del Veneto non a caso che sosteneva cioè lo sostiene cioè non ha mai smentito di essere un ex gladio i miei i miei uomini del gruppo K sono in Tunisia cioè sosteneva una serie di cose nonché che aveva una delle società di percettazioni a Roma insomma riusciva ad arrivare a queste cose eccetera e comunque diciamo uno che dava dava lo diceva proprio prettamente era vicino al mondo dei servizi e quindi discutere con la redazione del mio giornale diciamo dell'organizzazione di questa cosa non è stato semplicissimo perché ogni volta che volevamo parlarne dovevamo vederci fisicamente però diciamo abbiamo noi abbiamo fatto una traccia delle cose che volevamo fare ma poi sostanzialmente di quello che volevamo fare non siamo riusciti a fare nulla perché poi tutto era calibrato sui personaggi che noi incontravamo quindi abbiamo incontrato centinaia perché è difficile da immaginarsi ma il mondo dei rifiuti è un po' come la droga anzi a livelli molto più alti perché ci sono i trafficanti di rifiuti cioè degli individui che girano l'Italia incontrano persone smerciando rifiuti cioè io c'ho questa roba tu me la puoi scaricare tu c'hai quella roba io te la posso scaricare cioè è un po' così noi ci siamo inseriti in questo mondo di trafficoni di traffichini e abbiamo sentito quello che si muoveva offrivamo o soldi o possibilità di di scaricare rifiuti e qui con questa cosa ci attiravamo l'interesse di potenziali sì di 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 persone che erano in cerca di queste di queste cose abbiamo scelto le storie che ci sembravano più importanti da raccontare quindi il livello politico in campagna che ripeto è nato è nato qui cioè non è nato in campagna quindi queste storie ci sono arrivate mentre stiamo seguendo queste storie qui in veneto e quindi in questo poi l'organizzazione è nata abbiamo conosciuto questo personaggio che seguiamo questo filone invece che questo sì perché perché il piano iniziale poi è veramente difficile da fare dal nulla cioè se tu ti metti e dici ora prendo una valigetta una mazzetta vado a bussare a dei politici vediamo se qualcuno li prende non funziona non magari sì però però non riesci a capire qual è il sistema qual è l'organizzazione che c'è dietro magari trovi un politico corrotto ma che è poco interessante noi volevamo capire come come funzionava no tutto il sistema cioè molte di queste cose sono un po' noiose però sono molto importanti perché loro ti spiegano che hanno fatto due gare d'appalto che le hanno fatte andare deserte per poter andare in emergenza per poter avere l'affidamento diretto che su 145 gli rimangono 8 a noi 10 a loro e 8 a noi 10 a loro è fondamentale perché capisci che lì è pure l'impianto che si prende la sua percentuale cioè c'è una cresta sulla cresta e che loro in realtà sono schiavi poi c'è un'altra parte in cui loro dicono noi siamo qua ma in realtà sopra noi ci stanno tutta una serie di avvotoi cioè quelli che dovrebbero lui è l'amministratore delegato della SMA e dice io in realtà non decido niente perché c'è qualcuno che mi dice quanta è la mia percentuale e quant'è cioè lui non è neanche libero di farsi la tangente che vuole lui c'è qualcuno che gli impone le percentuali ovviamente diciamo poi tutto il girato come quelle cose che si vedono nei film io l'avevo dato avevo fatto cinque copie con la lettera se mi succede qualcosa inviala avevo fatto questa cosa quindi era molto difficile sequestrare il girato cioè l'avevamo mandato per esempio anche a Saviano con la cosa di se è tu pubbicalo integralmente quindi era molto difficile sequestrare proprio tutto il girato allora sono in corso delle indagini diciamo siamo stati tutti indagati sia loro che noi sono stati sequestrati tutti i computer tutti gli uffici tutto quello che riguarda la parte campana è tutto stato oggetto di un'indagine della magistratura e noi lo sappiamo perché appunto ci sono stati questi sequestri mentre tutto quello che è del nord Italia del Veneto non ci sono stati sequestri quindi non sappiamo se ci sono state delle indagini però siccome ci sono diverse notizie di reato soprattutto in Veneto ci sono proprio diciamo delle cose piuttosto evidenti di rifiuti sversati illegalmente crediamo che che si siano stati fatti degli accettamenti anche in questo senso però di ufficiale non c'è niente io volevo sapere se in questo tipo di attività tu hai detto che hanno sequestrato eccetera è possibile fare un contatto preventivo con le forze dell'ordine e dire io voglio fare questa attività vi avviso datemi le linee guida o come ci si comporta allora di solito in un servizio normale tu faresti il servizio lo pubblichi e se la magistratura lo ritiene fa le sue indagini eccetera eccetera in questo caso noi sapevamo che noi volevamo fare una cosa un progetto lungo dopo un mese che giravamo abbiamo ripreso in Veneto uno sversamento di rifiuti potenzialmente tossici quindi con una forte conseguenza sia ambientale che per la salute e ovviamente diciamo ne abbiamo discusso col direttore del giornale e siamo andati di nostra spontanea volontà a riferirlo in procura quello che avevamo scoperto perché sapevamo che noi probabilmente saremmo usciti col servizio dopo mesi quindi innanzitutto cioè dovevi facevi cioè tu stai facendo questa cosa contro questo problema e che fai sai questa cosa e te la tieni per te e lasci che questa cosa succede e poi sarebbe stato molto difficile dimostrare che noi eravamo non eravamo collusi con tutto quel sistema quindi abbiamo informato la procura di quello che stavamo facendo e ci siamo messi a disposizione per per collaborare eccetera eccetera e diciamo sembrava che questa cosa effettivamente che era un po' strana però che noi gli abbiamo spiegato il metodo che stavamo utilizzando e loro ci hanno lasciato continuare quindi pensavamo che la collaborazione funzionasse e poi invece c'è stata una reazione un po' scomposta quel giorno e probabilmente è andato storto qualcosa insomma è stata una bella miccia per far esplodere no? Vuoi raccontare qualcosa di divertente? Tu hai parlato di rifiuti che vengono riversati e seppelliti noi nella Vassa Padovana c'è un sacrificio che usa sostanzialmente rifiuti trattati no? ecco CSS e altri tipi di cose volevo sapere se voi vi siete anche imbattuti perché mi sembra che questa cosa del riversamento mai sia un po' diciamo così un canale un po' obsoleto si sta sia perché ci sono persone che poi hanno indagato sia perché mentre invece il trattamento dei rifiuti e usare i rifiuti come combustibile oppure anche come marna per fare cemento mi sembra una cosa che sta venendo fuori ma so se voi vi siete ecco un'altra cosa un'altra il materiale che voi avete spiegato in questo modo è molto interessante anche per per noi no? è in circolo si può trovare si possono avere dati siete disponibili a venire a fare una serata faccio per dire no? anche da noi allora prima mi chiedeva del progetto un progetto proprio su CSS perché io lo chiamo sversamento però nella maggior parte dei casi non è proprio uno sversamento e comunque poi il grosso cioè la cosa che noi stiamo continuando a lavorare cosa che anche non violando la legge cioè rimanendo nei limiti di legge ci sono delle aberrazioni incredibili le cose che si possono fare con i rifiuti rimanendo dentro la legge sono già catastrofiche no? però ovviamente è più cioè fa più notizia quello che riesce dalla legge no? ma un discorso cioè sarebbe da affrontare a livello proprio di produzione dei rifiuti perché cioè il sistema diciamo in cui che stiamo avendo sta deteriorando completamente l'ambiente la salute eccetera i video sono tutti in rete diciamo la parte montata del video abbiamo anche pensato di fare un database con tutto il girato accessibile ma per noi sarebbe impossibile sono 900 ore il girato per noi sarebbe impossibile perché poi non tutte le persone meritano di avere sputtanata la loro faccia o la loro cosa perché non tutte le persone che abbiamo incontrato sono dei criminali o comunque sono dei dirigenti noi per esempio cioè i dirigenti pubblici quelli che utilizzano soldi pubblici li abbiamo lasciati non oscurati abbiamo fatto questa scelta mentre diciamo i privati cittadini anche se commettevano reati in fronte a noi li abbiamo comunque oscurati pubblicare tutto il database significa violare la privacy di centinaia di persone perché per noi sarebbe impossibile oscurare tutti e soprattutto censurare parti di storia in cui qualcuno racconta delle cose di cui noi ci siamo impossessati facendo questo lavoro ma che è giusto che rimangano private quindi diciamo le cose che abbiamo ritenuto degne di interesse pubblico sono tutte online si chiama Bloody Money questo lavoro sono sette puntate prima andiamo in Italia avete mai sentito parlare della CNC qua in zona padovana detta anche la bomba ecologica un capannone che sostanzialmente è completamente pieno di fan tossici o di attività semplici che avete scoperto in zona di Marghera Mestre Porto Marghera noi stiamo continuando a lavorare in Veneto in maniera purtroppo non in questo modo e che quindi probabilmente non perché uno dei motivi per cui uno usa queste cose è che fanno più notizia quindi è più possibile che cambi qualcosa invece quando fai un lavoro giornalistico normale cioè puoi anche documentare tutto avere tutte le prove eccetera eccetera ma non rompi il muro del suono dell'indifferenza purtroppo quindi stiamo lavorando in maniera normale giornalistica sempre sul Veneto è un disastro su tante cose però su Marghera ti invito a vedere la quarta puntata di Bloody Money che è ambientata proprio a Marghera l'hai vista? hai vista? di altre storie rispetto a Marghera? grazie sì diciamo diciamo su Marghera sono uscite parecchie notizie di questo tipo poi può bonificare tutto a dei costi eccetera è pure vero che qui l'ex camorrista lui dice in Campania c'è la terra dei fuochi perché i rifiuti li incendiano quindi tu vedi la fiamma vedi il fumo e si parla sempre di terra dei fuochi al nord non si parla di terra dei fuochi perché non ci stanno le fiamme però lui dice bisognerebbe parlare di terra delle braci perché non si vede il fumo non si vede la fiamma ma i rifiuti stanno sotto terra e il problema è uguale anzi se non peggio perché questo è quello che lui ha sostenuto è una delle sue battaglie che lui porta è che lui dice prima è stato riempito il nord e quando il nord era pieno allora si è iniziati a riempire il sud anche perché i rifiuti da lì vengono e ora la cosa che noi stiamo documentando è che stanno ritornando cioè si è riempito il sud poi si è riempito il nord poi si è riempito il sud adesso il sud è pieno e i rifiuti stanno ritornando al nord e infatti tutte le storie diciamo sul nord sono tutti i rifiuti che arrivano dalla 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 campania prodotti magari al nord sono scesi poi ritornano perché questi rifiuti questo diciamo è uno dei dei grandi assunti di questa indagine che il rifiuto non si ferma mai cioè prima di arrivare a fine vita il rifiuto attraversa continenti va nello spazio perché ogni volta che si muove un rifiuto sono soldi per qualcuno e quindi poi alla fine nessuno lo ricicla questo rifiuto ma in questa operazione di selezione contro selezione imballaggi prima che avendo un codice poi un altro prima che arrivi in un incerenitore o in una discarica passano decenni sì sì perché poi anche a seconda della tipologia di rifiuti ci sono varie tipologie di smaltimento illecito non so se voi avete fatto caso a tutti gli incendi che sono scoppiati negli ultimi tempi nei cappannoni che stanno nel nord Italia quelli sono rifiuti quando li vuoi far sparire cosa fai? incendi tutto perché poi una volta che è incendiato non puoi più analizzare non puoi più sapere di preciso che cosa era quella cosa lì perché ormai la combustione ha comunque cambiato l'impronta genetica chiamiamola del rifiuto tu vieni pagato per smaltire il rifiuto ma in realtà non lo smaltisci tu dici che lo stai riciclando in realtà semplicemente lo cambi di codice ma questo è tutta norma di legge cioè è tutto nei limiti nessuno sta facendo una cosa illegale perché è previsto che tu possa fare questa cosa quindi tu guadagni come se stessi riciclando in realtà lo stai solo movimentando quel rifiuto fin quando uno che ha un capannone con una società con un prestanome si prende questo rifiuto dicendo che lo deve riciclare in realtà lo mette nel capannone finisce di riempire il suo capannone si fa milioni e milioni di euro come se li dovesse riciclare li accende e poi quel capannone di chi è di uno che ne sapeva niente che ha messo solo una firma su un documento e poi vai a vedere però quella piccola azienda è collegata a quel piccolo imprenditore che è collegata a quel grande imprenditore che poi c'è un fondo di investimento e gli interessi in ballo sono altissimi l'ultimissimo è quello che c'è il capannone e si incendia e si fa la sua percentuale però il metodo è che tu vieni pagato per smaltire ma non lo smaltisci il rifiuto il rifiuto non viene cioè sicuramente c'è un giro no non si può parlare di rifiuto in generale bisognerebbe sentire nel particolare io ti dito questo sempre per informazione c'è un cementificio ce n'erano tre due li hanno chiusi per fortuna c'è il terzo cementificio che è stato venduto da Zillo per il secretario cimentieri nazionale è stato venduto da una multinazionale austriaca e sono qualcosa come quattro cinque anni che noi stiamo combattendo con questo vi salto una serie di passaggi l'ultimo passaggio che è stato fatto è che c'è un comitato che si interessa ha fatto uccidere una serie di animali in realtà sono due galine che stavano sì ne parliamo magari io grazie grazie grazie